Ragazzi prima che cominci il video voglio dirvi che sabato e domenica sarò all'expo elettronica al Malpensa Fiere Insieme a Marci, insieme a Eren, insieme a Kenny, insieme a Marco Saremo lì tutti insieme, mi potete trovare quindi se volete portarmi qualcosa, lo sapete, disegni, sono sempre contenta Così li aggiungo a quelli da farvi vedere nel prossimo vlog che in tanti mi state chiedendo Tranquilli ragazzi, lo farò, non l'ho ancora fatto semplicemente perché è tanta roba E quindi ci metto tanto tempo e mi serve appunto tanto tempo, però non ho tanto tempo ultimamente Però tranquilli, i regali sono lì, li tengo apposta nella busta in modo che presto posso fare il video Quindi sabato e domenica 21 e 22 gennaio ci trovate tutti quanti insieme al Malpensa Fiere, all'expo elettronica Che se non mi sbaglio si trova a busto, arsizio o qualcosa del genere Quindi mi raccomando venite in tanti perché mi mancate tantissimo, mi mancate da morire E io voglio veramente rivedervi perché davvero mi mancate tantissimo Se volete sapere di che cosa si tratta in descrizione vi lascio il link dell'after movie che ho fatto all'ultimo Malpensa Fiere All'ultima expo elettronica e mi raccomando nei commenti scrivetemi Hashtag Malpensa Fiere se ci sarete così vedo quanta gente effettivamente ci sarà Ora vi lascio il video, mi raccomando lasciate un like per questo video, è importantissimo ragazzi Perché ho fatto una farm veramente veramente interessante, vi lascio il video, buona visione Ciao a tutti i video del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Oggi siamo qui tornati nella Rush e faremo una cosa molto interessante Più che faremo ve la farò vedere perché l'ho già fatta nel video ma il video è andato perso Perché OBS come al solito mi adora e quando ho tanto da fare decide di cancellare i video che registro Quindi grazie OBS però comunque vi farò comunque vedere il funzionamento e vi spiegherò come realizzare lo strumento che abbiamo fatto oggi Ovvero una farm di mucche, quindi mi raccomando ragazzi lasciate un like immediatamente Ora guardandomi dritto negli occhi, guardate i miei occhi, il mio occhio anzi guardatelo mettete like Ok? Vi lascio il video, buona visione Allora innanzitutto per quello che ho fatto ci serve assolutamente del bon meal e adesso vedrete perché Quindi andiamoci a prendere con questo bon meal ci serve tanto 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 grano Quindi prendiamoci questo grano, lo facciamo crescere tutto per bene, ce lo prendiamo Dobbiamo fare anche una farm di grano credo perché ci serve un sacco Però vabbè al momento non è la cosa più importante Quindi prendiamo tutto il grano e tanto ci sono loro che ripiantano tutto perché sono un po' scemi Ma tu me lo vendi il grano? Cioè se io ti chiedo del grano mi dai questo? Ok no No mi serviva il grano ma tu mi dai, cioè per del grano mi dai lo smeraldo che per carità è ottimo come cosa ma no grazie Allora che cosa dovevamo fare? Praticamente ragazzi adesso intanto la sistemo anche visto che ci sono Praticamente ragazzi ho realizzato questa macchina che praticamente si tratta di una bellissima farm automatica di mucche E niente una farm automatica di mucche che funziona bene, molto molto bene devo dire Adesso vi spiego per bene il funzionamento Allora lascio solo una piccola scaletta per salire perché mi servirà molto salire Allora ragazzi adesso se magari questa mucchetta cresce perché in realtà c'erano due mucche Avevo messo due mucche in questo macchinario Poi che cosa è successo? E' scappata una e non sono più riuscita a farla rientrare E quindi niente, cioè l'avevo già fatta procreare e ho detto vabbè rimane la mucchina con la mamma Poi quando la mucchina piccola cresce la farò divertire con la mamma E' brutto a dirsi, molto brutto però E purtroppo vanno così le cose ragazzi, vanno così Intanto vi faccio vedere che questo macchinario funziona alla grande Guardate quanta bella roba mi produce Mi sta producendo veramente veramente tantissime canne da zucchero Che mi serviranno un botto Adesso nella cesta non ce ne sono tante perché prima le ho ritirate un po' Però ragazzi ce ne sono un botto Veramente tantissime Guardate qua, no non le ho messe qui, le ho messe qui Guardate abbiamo già uno stack più Cioè roba da pazzi ragazzi ne abbiamo veramente tante Io sono contenta Quindi come funziona questa piccola farm? E' molto molto semplice Tolgo un attimo le shaders che non mi fanno capire quando è buio e quando no Quindi le tolgo giusto due secondi Anche per potervi spiegare bene questa cosa Toglietevi Toglietevi Così vedete anche come si chiama visto che me lo chiedete Ok Allora è molto semplice Come funziona? Praticamente questa è acqua Io faccio così Ed esce da qui dell'acqua Vedete? Tutto molto semplice Tutto molto semplicissimo E ah ma è cresciuta la mucca? È cresciuta? Ok E io le faccio riprodurre Quindi vedete così Le mucche si riproducono Nasce la mucchina La deliziosa bellissima mucchina E il che è molto buono Perché poi io tolgo l'acqua Ora non posso farlo Perché altrimenti mi morirebbero le mucche E non rimarrei senza Però una volta tolta l'acqua Io attivo quest'altro pulsante Che fa uscire Praticamente Fa uscire la lava E quindi loro che sono più alti La lava esce E rientra subito Quindi incendia soltanto Chi è alto più di un blocco Quindi non i mucchini piccoli Sono le mucchine Solo le mucchine grandi E quindi niente Si ci si diverte così Perché dopo che ho fatto riprodurre Tutte quante le mucche Loro muoiono di cattiveria Incendiate E mi droppano Carne cotta E pelle E il che è molto molto bello Ora io vorrei metterci dentro Altre mucche Però ovviamente la cosa è complicata Perché farle salire qui dentro È stato un parto E non mi sogno nemmeno Di farlo altre volte Quindi come vedete Questa farm è molto semplice Basta mettere appunto qui Un Sento già rumore di zombie Quindi vedo di andare a dormire E poi vi spiego come funziona Comunque è molto semplice L'avevo trovata su internet Però l'ho riprodotta da sola Senza seguire tutorial Perché è talmente semplice Che basta guardarla Capisci come funziona E la riproduci In un batter d'occhio Non so se potrebbe essere Resa automatica Non credo comunque Magari si con gli observer Non lo so Non penso Non penso sinceramente Che possa essere resa In qualche modo automatica Però è comunque molto comoda Perché ci permette Di avere tanto cibo Con il minimo sforzo Tanto cibo Soprattutto tanta pelle Che ci serve assolutamente Per completare Quest'area enchant Che ho fatto qui Che devo anche sistemare Un pochettino Devo completarla Tanto ce l'ho la roba Perché appunto Devo enchantarmi Tutta quanta L'attrezzatura In diamante E anche l'arco Perché devo Assolutamente Andare a combattere Il drago Che è l'obiettivo Di questa rush Combattere il drago Io ve lo ricordo Ogni volta Perché magari alcuni Non sono ancora Al corrente di questa cosa Quindi niente Adesso dobbiamo aspettare Un po' Che crescano le mucche Di avere più mucche E poi potrò mostrarvi Bene il funzionamento Magari se porto Un'altra mucca Riesco a fare Le cose più in fretta Però se le mucche mi seguono Ci riesco Altrimenti la vedo dura Come cosa Ok signori Ce l'abbiamo fatta Abbiamo messo su Abbiamo messo dentro Anzi non su Un pochino di mucche Ora le facciamo riprodurre Ok Un attimino Riproducetevi Perfetto Grandi ragazzi Grandi Togliamo questa Vai togliti acqua Perfetto E poi facciamo così Dovrebbe togliersi No Non devi scendere No Così uccidi tutte No No Non dirmi che hai ucciso Anche le mucche piccole No 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 Ok le mucche piccole sono Come vi dicevo Rimaste tutte intatte Tutte Non lo so Perché mi sembra Che ne manchi qualcuna No Dovrebbero Forse sono tutte Sì dovrebbero essere tutte Ok E mi hanno dato Già 5 di carne cotta Cioè 11 di carne cotta E 5 di pelle Poi adesso cresceranno Anche queste mucchine piccole Le farò di nuovo riprodurre Fino a che non saranno tantissime E quando diventeranno tantissime Le farò nuovamente Morire tutte male Di cattiveria E niente Sono fodice Perché qua ci sono Tre belle mucchine Pronte per farle riprodurre Che è un sacco incestuosa Come cosa Però vabbè Intanto noi abbiamo Già altri 7 di pelle Con i quali possiamo fare Altri libri Se adesso vado a prendere La mia La mia cosa E con i quali possiamo fare Quindi di conseguenza Altre librerie E le librerie Sono cose Belle signori Sono cose molto belle Non so quante Librerie Vanno Vanno messe Effettivamente Per fare Per far sì che funzioni Perché Quando c'erano le vecchie versine Ne andavano messe un botto Adesso non so Se sono diminuite Il numero O meno Intanto ogni tanto Lagga E devo uscire E rientrare Allora Allora Di qua Ho messo questi Quindi adesso Se noi facciamo Tipo così In questo modo Facciamo un bel po' Di fogli E con questi fogli Facciamo le librerie Che ci servono Quindi facciamo In questo modo Ecco qua Le nostre Altre due librerie Che possiamo aggiungere Alla sala Tra virgolette Enchant Che sarà presto Completata E utilizzata Per enchantare Tutta la nostra roba Quindi facciamo così E così Quindi poi Devo metterne un altro Qua Credo E poi penso Forse un altro strato Sopra Non ne sono sicura Di questo Sinceramente Quindi ditemelo voi Nei commenti Che magari siete più esperti Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ho spiegato Il funzionamento Di quella farla Abbiamo iniziato Cioè abbiamo completato Un altro po' La nostra zona enchanting Mi spiace Che questo magari durerà Un po' meno del solito Ma appunto L'avevo già registrato Con tutta la preparazione Tutti i crafting E tutto Ma è andato perso E non avevo un altro Non avevo i materiali Per fare quello che devo fare Nel prossimo episodio Quindi mi dispiace Comunque lasciate un bel like Un bel commentone Ci sono i prossimi video Grazie a tutti ragazzi